Ormai è chiaro, l'ulteriore conferma arriva da Bruxelles, dove il commissario europeo per i trasporti, rispondendo ad una interrogazione dell'eurodeputato siciliano Annalisa Tardino, ha dichiarato che dal governo italiano non è mai arrivata alla Commissione europea una richiesta di finanziamento del ponte sullo stretto di Messina. Dice con assoluta chiarezza il rappresentante dell'esecutivo europeo, finora le autorità italiane non hanno presentato alla Commissione piani concreti in merito a tale collegamento. Cosa significa? Significa che in Italia il governo, non solo questo ma anche quelli precedenti, fanno finta di essere interessati alla infrastruttura solo per tenere aperto il dibattito, mentre nelle sedi istituzionali dove bisognerebbe operare per ottenere il necessario finanziamento e l'Europa sarebbe disposta a finanziare, il governo italiano è assolutamente assente. Ecco noi siamo stanchi di questa telenovela, ormai gli atti ufficiali dimostrano come il governo italiano non abbia nessun interesse a dotare il sud Italia di una infrastruttura che consentirebbe alla Sicilia e alle altre regioni meridionali di diventare quello che naturalmente deve diventare, cioè la piattaforma del Mediterraneo per poter ricevere le merci, la gran quantità di merci che arriva dal Medio Oriente, dall'Asia attraverso il canale di Suez. Ecco noi chiediamo a Roma di uscire ormai allo scoperto, di giocare di giocare senza più doversi nascondere. Ci dica il ministro per le infrastrutture, ci dica il presidente Draghi che cosa intendono fare di questa opera. Lo dicono con grande chiarezza e al di là di ogni ipocrisia e di ogni bizantinismo, siamo davvero stanchi e qui nessuno ha fesso.